Però ti prego dimmi che hai preparato la tua casa, Totodale e Tepig non fanno, quando stanno insieme nella stessa casa combinano un disastro dopo l'altro E guardalo, il tuo è felice, con la zampetta per aria, tutto contento Sì, lo so che è felice, si diverte ad allagare tutto, aspetta che sistemo qua, aspetta, aspetta, ok Smettila, 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 non va bene così, lo so che non ti piace avere quel furfante di fuoco vicino, però lo devi smettere Che c'è Fere? Il mio Tepig penso che sia andato a rubarti le ghicocche, non lo so, sì, l'ho visto scendere No, io non li sopporto più Fere E non so più che fine abbia fatto Va a tenere a qualche parte, non mi frega nulla se non c'è una casa Ma io la mia casa, Stef Ah, l'hai fatta? Sì, ci ho messo una settimana ma l'ho fatta Finalmente, Fere, perché non lo sopportavo più E ragazzi, come va? Io sono Fere, Niki E sono Stef, e che se oggi come a Minecraft Benvenuti in un nuovissimo episodio della Pixelmon Dove oggi vi farò vedere la mia fantastica casa Allora, Consolini, se voi la scorsa volta avete visto la casa brutta di Stef Immaginatevi una casa molto più bella e quella è la mia Allora Perché la tua è brutta e io per vendicarmi ci ho messo una settimana intera e l'ho fatta strabella È pure enorme, Stef, è davvero molto grande Forse da terra non riuscirai a vederla tutta perché è talmente alta che non riuscirai a vederla Te lo dico Te la faccio bruciare dal tuo stesso Pokémon Può bruciare ma non la toccare, ok? Allora, allora, prima di tutto non è l'episodio della tua casa, Fere Perché non è che funziona così Non è che tu fai una cosa e diventa il tuo episodio, ok? Vedremo la tua casetta Ma giusto 30 secondi perché non merita più attenzioni di così Dopodiché il nostro obiettivo reale di questo episodio è far evolvere Sterli Perché abbiamo bisogno di volare in giro per la Pixelmon Quindi abbiamo bisogno di farlo volare E quindi lo facciamo evolvere per volare in giro Ben più importante della casa di Fere Siamo tutti d'accordo con Solini, immagino Quando la vedrai ti rimangerai tutto, Stef, sei pronto? Mi raccomando preparati, ok? Ok, devo fare anche un urlo appena la vedo Sì, sì, possibilmente Allora è dietro la tua, quindi dobbiamo superare i tuoi alberi Ok Anche la ciliegina sopra, non so se hai notato, nella panna Sì, sì È un cupcake, non ti confondere, sì Ok, ok Ti piace quindi, Stef? Eh, sì, è proprio la casa adatta ad una serie di Pokémon Dai, la ciliegina è proprio la parte più bella Ascolta, ascoltami un attimo Ti ascolto, ti ascolto Cioè, guardati in giro Non c'è niente di adatto in questa serie di Pokémon Quindi io mi faccio la casa cupcake Perché ho sempre sognato di vivere dentro un dolce E siccome la tua era rosa, la mia doveva essere più rosa E c'era pure bisogno di quella porta Sì Con un cuore, rosa È perché il legno rosa, se tu fai la porta con il legno rosa, ti asce col cuore Ops, scusami, Fere No, provare a modificare qualcosa, Stef Allora, c'è da dire che ovviamente non è finita Perché vedi che dentro è vuota Non ho fatto neanche l'accesso al secondo piano Quindi c'è ancora tanto, tanto da fare, Stef Però sono molto soddisfa Aspetta Fere Fere, smettila che quelli litigano Guarda lì che ruotano, guarda Totodile Lascialo in pace Ignoralo, ignoralo Lo so che non lo sopporti Ma stai tranquillo Siete gelosi della mia casa Hai visto anche il vetro? Eh sì Perché ovviamente servono anche delle finestre Sono avvinata al cuore Beh, certo, era indispensabile Era una roba completamente indispensabile È finito, Fere? Il tuo momento è passato Possiamo andare avanti? Te l'ho detto Non ho finito Quindi per ora la mia casa è questa Ok, prossimo episodio troveremo Gli arcobaleni In gelosendo Quindi lasciamo così No sì, mi aspetto già degli arcobaleni dentro casa Non lo so No, non ti preoccupare Va bene così La devo giusto arredare Fammi una bella farm E così via Tieni, ti meriti questi 3 di gravel Non mi servono Lo so Sono brutti Appunto Andiamo, forza, muoviti L'obiettivo di oggi è far evolvere Sterly Forse anche Totodile riesco a farlo evolvere Ok Perché ne abbiamo portati un po' su E al momento io ho Totodile a 15 E Sterly al 13 Ok Sterly si dovrebbe evolvere al 14 Totodile, non mi ricordo Se è al 16 o al 17 Quindi volendo possiamo farli evolvere entrambi Fere Allora Di sicuro Allora io Sterly sono anche io al 13 Ok Allora se non ricordo male il mio si evolve al 17 E ce l'hai al? 13 Ok Quindi ci volo un pochettino Va bene, va bene, va bene Troviamo prima di tutto Chi hai trovato? Aspetta che mi sto organizzando i Pokémon Chi hai trovato? Fere, guarda che baffi che ha Pensa se io avessi questi baffi Guarda che bello Saresti brutto Steph Lo so Questa qua è la casa di Drarts Ok La, va bella Il posto Sì, va bella Perché la casa non l'ha ancora fatta Non è proprio una casa in effetti Ancora di casa c'è ben poco Ok Però guarda che cose si è già messo Vedi che c'ha pezzi di arredamento Cioè ha un tappetto di pantera Sì ma secondo me Vieni un attimo Secondo me è uno scherzo Ah dici che gli hanno messo le cose Cioè vedi che qua ci sono dei cartelli E secondo me per scherzo gli hanno messo le cose rosa Perché io Drarts sinceramente non ce lo vedo Con questa, questa specie di credenza rosa Aspetta, aspetta, aspetta Gli facciamo una scultura Ma no Facciamo così Poi Così Così E così Perfetto Andiamo Ti volevi liberare della pietra Comunque è giusto per dirti che possiamo fare anche noi dell'arredamento dentro casa Quindi secondo me il prossimo video ci potrebbe stare Ci potrebbe stare Inizia a fare qualcosa anche di carino Ma cosa tu dovresti catturare? È un caglino troppo bellino Che bellino Prenditelo Hai una pokemon che ti avanza? No sì ne ho Però Steph Cioè dovrei organizzarmi una bella squadra E farli nel modo più giusto Non prendere solo quelli carini No dai per ora voglio pensare i miei E poi abbiamo detto Chi oggi livelliamo Steph Non si cattura Non mi tentare Basta Fere ha rifiutato di catturare un pokemon carino Sì perché abbiamo detto una cosa la voglio fare Adesso vado a sconfiggere qualcuno Ciao È impossibile Ti ha fatto male costruire quella casa Fere Sei cambiata Livello 12 Dovrei riuscire a sconfiggerti Vieni qua e non mi avvelenare il mio pokemon Guarda che mi arrabbio Ok bella sberla Subito Perfetto così Facciamone un'altra Così ti buttiamo giù Ce l'ho fatta Livello 14 Aspetta Oh si va a te Aspetta Vai 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 Oh mamma mia che bello Dai Bella animazione Fiegata È arrivato È arrivato Guardalo Guardalo Adesso è figo Fere ma dove sei finita? Mi sono incastrata nel fiume Volevo andare a combattere qualche pokemon Un pesce in recinto Non riescare di da lì E Steph non finisce Si è persa la mia evoluzione No l'ho vista nel tuo schermo Ma sono persa Adesso c'è una persona terribile No Steph Guardalo Guardalo È offeso È offosissimo Guardalo in faccia È arrabbiatissimo con te Si capisce È offesissimo Più che altro Io pensavo che si potesse cavalcare Ma non posso cavalcarlo Come no? Mi sa che dobbiamo aspettare La terza evoluzione Fere Ma dici Non possiamo ancora volare Ho trovato un PJ di livello 11 Teoricamente è il mio momento Teoricamente è il mio momento Appena ho mancato subito un attacco Per far capire che va tutto bene Bravissimo Critical hit Buttato giù Livello 17 Teoricamente Dai ce la fai? Teoricamente Non si evolve Con questo attacco dovrei evolvermi Con questo attacco dovrei evolvermi Porvero Fanfi Non è morto Fatti ammazzare È troppo carino però Fanfi Non lo puoi usare È nel livello 21 Andato Livello 18 fatto E quindi adesso parte Adesso parte Oh mio Dio Lì dietro c'è un Onix Voglio quell'Onix Io adoro Onix È bellissimo Io l'adoro Però fatemi godere questa evoluzione Dai bello Dai bello Oh yes È bello E diventa anche più bello È molto più bello Ok Sì però La terza evoluzione Ha la cresta È strabello Diventa cattivo Ma la cresta Così è bellissimo Però sei proprio figo Ma sei proprio fighissimo Cioè Wow Dimmi Devo andare a vedere che livello è quell'Onix Giusto perché curiosità Non lo voglio Non lo prenderei mai Livello alto Fere Puoi prenderlo Ehm Adesso sono in combat Vado a casa a prenderne una Onix resta lì Ti prego Ti vorrei troppo Anche perché poi è gigante È spawnato di quelli super giganti Eh sì l'ho visto È strabello Lo voglio Lo voglio Devo correre Devo correre Non deve scomparire Non deve scomparire Mi butto giù così Mi sa che è scomparso Mi dispiace Steph Controlla ben in giro Magari si è spostato Dai non è che è scomparso Sai è gigante È gigante Fere Direi che se ci fosse ancora Si noterebbe abbastanza facilmente Però mi sa proprio Che è scomparso È il momento della rivincita Anche se ci spero poco Devo essere sincero Abbiamo allenato i nostri Pokémon Eh Però Siamo impegnati perlomeno La vedo grigia Fere inizia tu Devo farla prima della figura Sì così capisco Quante sberle prenderò Mi inizio a preparare Psicologicamente Va bene Come sono i tuoi Pokémon Gli hai livellati ancora Cioè come sei messo No non li ho livellati Non sono così cattivo È qualche speranza Fere Forza Però il mio Guarda Che brutto Che l'ho fatto evolvere Eh sì che l'ho fatto evolvere Guarda che bello Steph me lo sta criticando Però secondo me è bellissimo Allora Di il tuo parere onesto È bello o brutto È bello No È bello Quello che pensavo Lo facessero un po' più Tondiggiante con l'aggiornamento È ancora un po' troppo E sembra un uomo Sembra un uomo Anche un po' più grande Sinceramente Mi sembra basso Sembra un nano Poverino Ma sarei cattivo Ad usare un Pokémon Di tipo acqua Abbastanza Diciamo No va bene dai Non lo uso Non lo uso Ma quello lì Tanto da testate Anche peggio Provo subito La sua nuova spell Che è di tipo lotta Quindi sono curiosa Voglio vedere un pochettino Come va Perfetto Per la felicità Vai Ti faccio calare l'attacco Almeno Vediamo un po' No No L'hai già steso Non è servito a niente Com'è possibile Forse è diventato un po' più forte Miralda Un pochino Ai ai Attenzione È andata Niente Va a cappare Oggi si mangia Bistecca È buona quello Oh cavolo Che poi è molto Alto Quindi io sto in difficoltà Perché non ho Pokémon Così altri Vediamo così Sì tu infatti Oltre al tuo È evoluto Ok Ce l'ho fatta Almeno si sta Si sta livellando Mentre combatto Quindi è una bella cosa Una bella cosa Vai Vuole sfruttare l'elettricità Eh sì Vuole sfruttarla Sono troppo basso di livello 15 11 11 No no 17 11 Eh 17 È perché livellano Mentre combatto L'ho capito Io lo vedo ancora al 15 Io lo vedo ancora al 15 No 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 Livellato Ma aspetta Ferre Ma tu quanti Pokémon hai? 3 Ah ok E beh io i miei 3 Li ho esauriti Quindi hai vinto tu tecnicamente Ok abbiamo finito così quindi Ce l'ho fatta stavolta Ne avrei uno al 35 Se vuoi lo metto Non lo so Dimmi tu Vabbè dai vai Finiamo ormai Così è una bella battaglia Fino alla fine Va bene dai Diciamo che ha vinto lo stesso Però finiamo Ok Vai pistola acqua Vediamo il nostro Ma io a Ferre l'ho messa a combattere Per farla perdere Non pensavo andasse bene Steph scegli tu O affronti i miei 3 Pokémon Non ne affronti uno Ma il 35 Mmm Però aspetta No aspetta Perché comunque un po' in Italia 29 Che cos'è il 35? Di che tipo è? Muddale Lui Ok fammi vedere un po' Se mi sembra cattivo Eh Guarda che bello Aspetta E guarda lui lo può Cavalcare bene Mi sta sfidando Io lo cavalco bene Mi sta sfidando ragazzi Non le accetto queste sfide Cosa vuoi fare? Dimelo Allora gara di Pokémon O gara di corsa? Non vale Io blocco il mio Opponità Lo rallento Dai facciamo Devi scegliere Vediamo se riesco a buttarlo giù Dai Va bene Allora io userò un solo Pokémon Ok Ok Vediamo un pochettino come andrò Ma la vedo grigia E te lo dico Andiamo Vediamo un po' Allora Io parto con uno stomp Per capire un po' Quanto è grave la situazione Vediamo Vai faccio anch'io stomp Noi? Eh Ah eh La situazione è grave La situazione non è grave È gravissima qui Senti ho tolto uno sputo di vita Non è possibile Mi sa che la mia vita è già finita Ho provato Hai chiuso peso bomba Vediamo un po' Ok Ho fatto un takedown E addio Almeno un colpo lo do Almeno un colpo lo do È super efficace Ma neanche metà vita Ti porto E adesso Non ho un Quick attack No No Non ce l'hai Addio Festone Guarda se vuoi Facciamo la rivincita Ma uso i miei Pokémon Quindi normali Ma smetti Lasciati giù Dai smetti Vado via Il mio pianeta ha bisogno di me Ma se mi butto No non ce l'ho È morto Arrivo Ok Oh mio Dio Tutto a posto Se vuoi Curo i miei Pokémon E uso quelli normali Va bene Dai si fa una bella sfida Così almeno Io pensavo di avere qualche speranza Ma Bonita fa schifo in tutto Cioè è brutto da camminare Non fa danno Sì tu che l'hai voluta Non ti lamentare Eh ma sono pentito Quindi parto subito Con la tua mossa preferita E ti do una testata Aspetta Ho attaccato per primo Per fortuna E la testata Non mi ha fatto troppo È positivo C'è qualche speranza Per me quest'oggi C'è qualche speranza Per me Ok Hai messo del metto di ferro A croco now Eh più o meno Il crestino Lo difende bene No Il crestino Vai Marip Ok Furbo Sei superiore di tipo Ma inferiore in tutto il resto Vediamo se riesco a stenderlo No No È sopra Aia Aiaiai Hai pure fatto il critico Però eh Un po' di fortuna qui Un po' di fortuna Che non va bene Aiaiai Me la devo giocare Con l'ultimo Pokémon Chi hai? Chi hai? Non mi ricordo più Vai Mando il mio starter Ok 23 È dura È dura È dura È dura Perché Attacca lui per primo Però sono rimasto in vita No come è possibile Due Almeno un morso te lo do Ma dai te lo stai avendo una fortuna assurda Almeno un morso glielo ho dato Ok Ok Adesso si fa difficile Perché io ho un po' in ità che sei livelli più alto Ma è di fuoco E quindi Mettiamo prima lui Mettiamo prima lui Vediamo se riesco a darti almeno Due colpetti Per farti scendere un po' di vita Facciamo Oh Meno male Mi è venuto di fatto E faccio anche un piccattacco Ho vinto la sua faccia Si stava sbiancando 23 29 Però super efficace Allora Facciamo uno stomp Ok 20 Quanto ti faccio io? Uh No Forse la differenza di livelli Mi dà un vantaggio Sì No Ok 3 contro 3 Vabbè io ma ti mando l'altro Ok Vai 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 Mi piace Vai vediamo se ce la facciamo Ah batti in testa Vai No non riniziare Io ti faccio un ember Per bruciaccherti un po' Stomp Quanto ti fa? Eh vabbè ma Con stomp picchio eh Con stomp picchio davvero tanto E c'è fatto Con il piccino più forte Meno male Meno male L'hai voluto tu No Ormai sì dai Ormai l'hai voluto Fuga Fuga Scappo No Me ne vado No No Arrivederci Non mi interessa E' troppo forte Quella Non lo voglio combattere Ragazzi Giorgio 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 Grazie a tutti.